Che voto mi date a questa da 1 a 10? Che chiede a votare? Eh? Che voto gli dai a questa? Ammassata, si è buttata sulle lolite. Scusate, ma perché stiamo facendo sto sondaggio? Ci sono stato, io. Sto sei fatto? Ci sono stato insieme. No, da vero. Non lo vedeste, non lo sai che ti ha fatto? Magari mi casca, bellissimo. No, ma guarda, io che ho bisogno del Viagra come te, sai? Facci te con mi nonna, altro che Viagra, Plutonio ti ci vorrebbe. Ma perché chi è che va a letto con i vecchi? Ci vado io. Per arrotondare, accompagno le signore mature, va bene? Vabbè, fare escort. No, accompagnatone. Te pagano per scopassi, è un battone. Ti dico che le accompagno. E dove le accompagno? Qual è il battone? A casa, in hotel, dove capi? Ma sempre macchina. No, dico protetto. Ma certo, me ne metto due, doppio calzettone. Chiudo l'occhio e parto di immagini. Buongiorno.